Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR Allora, a grande richiesta ci sono qui per fare un altro video ASMR a tema trucco e in molti mi avete richiesto di fare un trucco con ciglia fitte e quant'altro però in questo momento parecchio caldo, infatti ho acceso anche il condizionatore spero che non dia troppo fastidio, però morivo se no con le luci e tutto il resto e poi ho usato tantissimo le ciglia fitte in questo periodo e preferirei un attimo aspettare adesso che non ne ho neanche la necessità, quindi sicuramente nel futuro farò video con questa richiesta però non è il caso di oggi, spero veramente che non vi dia fastidio il condizionatore, speriamo allora, ho preparato tutte le cose e direi di iniziare dietro i capelli qua in questo periodo sono abbronzata e mi fa stranissimo strano strano, infatti mettendo la mano dove non ho preso il sole, quindi sulla pancia così, cioè, due color diversi allora, inizio a mettere la crema per il viso io uso questa qua, o mio a questo modo, ok, allora dato che ho deciso di fare una specie di, scusate di get ready with me, volevo parlare anche di alcune cose allora, allora abbiamo superato i 4.000 e per questo vi ringrazio tantissimo abbiamo fatto anche un post su instagram proprio per ringraziarvi e poi ci tenevo a farvelo sapere, insomma anche qui su youtube grazie mille, ovviamente ma lo sapete già ve lo dico ogni volta che mi scrivete, sostanzialmente poi un'altra cosa che vi volevo chiedere è la seguente allora sto partecipando a molte fiere in questo periodo e come avete visto sul canale di youtube sto facendo o comunque ho fatto finora dei video in cui appunto vi avvisavo della mia presenza in tal fiera ma vi volevo chiedere un favore che detto detto onestamente mi renderebbe la vita molto molto più facile ovvero se vi va vostra discrezione mi pianterebbe di andare a seguirmi su instagram perché c'è un motivo ben preciso su youtube io non ho ancora attivi attiva la parte della community grazie alla quale è possibile fare post su youtube scritti e quindi ogni volta che devo fare una comunicazione sono costretta a fare un video e mi piace tanto riempire il canale di video appunto di aggiornamento quindi per rendermi le cose più facili almeno fino a quando non avrò appunto questa opzione attiva quello che faccio io è postare su instagram avete comunque sempre il nome sotto nell'info box e alla fine del video lo metto sempre però in pochi mi seguite quindi molto spesso non siete neanche voi che mi seguite su youtube ma sono altre persone quindi se appunto volete farmi un favore e comunque vi fa piacere seguirmi anche su un'altra piattaforma vi prego di farlo perché è molto più comodo per me fare un post su instagram per dirvi che un giorno talora uscirà un video di un certo genere oppure io un altro giorno ho un avviso di un evento in una fiera perché mi rendo conto che anche a voi non fa non credo piaccia un gran che vedervi apparire su youtube video tipo last minute in cui annuncio appunto una fiera una fiera una novità e queste cose instagram è molto più diretto come mezzo comunque adesso metto un po' di fondotinta uso questo ho dovuto comprare uno scuro che forse è ancora leggermente scuro però lo scopriremo di wet and wild si chiama photo focus foundation nel colore soft beige quindi se vi fa piacere c'è sempre il nome sotto nell'info box e tra l'altro magari spero di ricordarmi vi scrivo anche il nome della fanpage ho chiaverato una ragazza che mi segue su youtube che saluta allora mettiamo un po' forse è leggermente scuro si allora dopo vado a mettere un po' di quello più chiaro oddio sulla fronte va anche bene vado a usare un goccino del mio fondotinta invernale che è questo di Fenty Beauty del colore 120 sta venendo da starmo a dire ok in questo video vi faccio vedere il mio trucco koutou ovvero quello che faccio praticamente sempre quando non ho nulla di inventiva per quanto riguarda il trucco o semplicemente non ho voglia di fare chissà che allora faccio così allora uso questo correttore di NYX che tra l'altro dovrei comprare perché è finito e lo uso per coprire le occhiaie allora poi se riesco come ho già detto su Instagram sto cercando di organizzare un video con una ragazza che si chiama Milena e che ho conosciuto in fiera è una cosplayer da tanti 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 anni e quindi mi piacerebbe fare un video con lei insomma un po' per far conoscere anche alle persone meno esperte come posso essere io come essere un cosplayer professionista ecco vediamo se riesco a organizzare spero di sì allora ho messo un correttore illuminante che è questo qua che è un po' troppo chiaro forse per adesso però cerco di sfumare bene il DC camouflage di Essence ho ripreso ad usare le spugnette per il trucco era da un po' che non le utilizzavo per stendere il fondotinta non continuo a non amarle ma per il correttore sì mi piacciono abbastanza adesso uso la cipria ecco la io ho questa qua che è di nobla in cui ho aggiunto un filino dei rimasugli che mi erano rimasti di quella di NYX per non spiegarla per la cipria si chiama Close Up Baking Defensive Powder ne metto un occhio qua e con la spugnetta la stendo dove è obbligato il correttore è bello che io mi sto truccando sto facendo tutto ma non devo uscire quindi è fantastico in molti mi state chiedendo se sarò Luca Comics cercherò in tutti i modi di venire ma non lo so perché è in un periodo dell'anno un po' difficile adesso prendo il pennello ho deciso di fare questo video abbastanza semplice perché ho il curatore in casa e poco tempo e in cui c'è silenzio ecco adesso faccio le sopracciglia e uso i miei soliti prodotti e questo allora io per il mio colore faccio la parte iniziale un pochino più chiara un pochino più chiara con il Capra 01 di Benefit e la parte finale con questa matita per sopracciglia di Primark il colore light che in realtà è abbastanza scuro quindi faccio prima il chiaro questo è buonissimo non si scioglie dura tanto ok stava cadendo allora vi faccio vedere solo sopracciglio perché è abbastanza noiosa com'è la parte del processo ecco vedete faccio giusto un po' il pettino e riempio e poi con questa matita che anche lei ha il pettino un pochino faccio la parte finale allora porto da qua scelto e riempio un pochino basta tutto qui eccomi allora adesso uso un po' di terra ta 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 ma gli faccio del tutto l'amparata anche qua davanti un casino comunque un po' di terra qua sotto la zigoma e poi un po' di terra prendo un pennello più piccolo fatto così e sempre con la stessa terra faccio un po' di contouring al naso sulla parte finale sulla parte finale perchè qua il nasino c'è abbastanza cannuccia qua invece puff esplode quindi metto un po' qua un po' sotto un po' sotto e sfumo metterlo qua serve far balzare il naso veramente tutto il otticanete e poi io di solito comunque nell'ultimo periodo faccio anche una lineetta dritta qua in questo modo mi sfumo anche questa così nulla di di che ancora un po' poi riuscite che si trucca ovviamente a truccarvi d'estate io non ho particolari problemi cioè molti dicono che il trucco da fastidio sul viso ma invece da fastidio tanto trucco sugli occhi non so perchè ma è così infatti come sono stata in fiera parrucca cia finte super eyeliner mi si stava sciogliendo tutto sta molto bene se avete la bella un po' abbronzata forse anche un po' più della mia ne ho messo un po' troppo infatti ma adesso vado a sfumare però dei bei riflessi e sfumo un pochino ovviamente anche se a me soprattutto d'estate mi piace abbastanza intenso il blush mi posso far perdere lo sporco anche qui una cosa che mi piace fare tantissimo quando ho tempo sono le lentigini io ce le ho già però solo qua sul naso quindi di solito le spando un po' uso questo che è un vecchio prodotto per le sopracciglia di Wicon che non uso più per le sopracciglia perché non fa bene con i miei colori dei capelli è troppo rosso prendo un po' col dito quando voglio essere più precisa uso un pennellino comunque quando voglio fare le cose veloci prendo un po' col dito ma non l'ho bruciato ma non l'ho bruciato prendo un piede poco a poco e picchietto sul viso in questo modo ripasso anche un po' il naso così così non si vedono quasi però va al vivo ci sono e sono naturali ecco comunque di solito uso il pennello per l'eyeliner e questo è troppo grosso e vado a picchiettare anche qua soprattutto se avete i brufoli con me così la scottetela adesso gli occhi allora quando mi garba metto un po' di ombretto quando mi garba magari oggi lo faccio uso questa palette di nabla e stendo ok 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 con pennellino bello ampio questo colore che si chiama polero ne prendo poco e lo metto proprio un po' così su tutto l'occhio in modo per dare un'ombra leggera 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 di colore carino carino questo colore di solito uso o questo o o o oppure quando vuoi fare le cose più 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 uso lo scuro mental karma uso un eyeliner un pennello un pennello angolatino piccolino ma non troppo pianto ecco allora il eyeliner è marrone e poi qualche volta ci aggiungo un po' di matito vediamo se oggi è il caso questo questo è di neve e si chiama ajemsut ajemsut come il faraone donna e praticamente spero si veda lo metto un po' qui non voglio fare un eyeliner preciso anche perchè con questo pennellino è possibile faccio un po' così e poi un accenno di cotina così ecco dopo di che prendo ah ma quasi quasi lo faccio eccolo questo che è quello piccolino che ho usato prima ok ripasso un po' così tac 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 e sfumo col pennellino piccolino così e poi sistemo un po' la cotina prendendo anche un altro po' di prodotto ok ecco fatto così adesso faccio l'altro occhio ok adesso sembra molto brutto ma sicuro che è mio bravo poi piegaciglia questo qua non mangio il piegaciglia state tranquilli ecco qui non metto niente sotto non metto niente sotto non metto niente sotto le labbra vario un pochino di più comunque ho messo la mascara e dipende ecco eh quanto voglio oddio ho sbagliato quando voglio qualcosa di opaco ecco questo che è di blind crime si chiama mirv che è un nude che è un nude molto chiaro oppure ne avete chiesto tantissimi quello il rosetto che indossavo qualche video fa quello viola che non so sta tanto è uno dei miei rossetti estivi preferiti questo di Mulac che si chiama Hot Stuff ed è appunto viola elettrico bello bello però la maggior parte delle volte prendo una matita nude e faccio il contorno delle labbra che io ho poco definito perché le labbra abbastanza chiare come colore e sottili così il vicino si è messo a suonare e contemporaneamente sta ascoltando musica neomelodica ah donna io così poi metto un pochino sfumbo con le dita e metto un pochino di gloss un pochino di rossi youtube un pochino si ancora diciamo e niente questo è quanto spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere se proverete a ricreare questo look e ci vediamo in un prossimo video ciao